Pochi gol ma tante emozioni qui allo stadio comunale di Castelnuovo per Torrese-Angolana che finisce per 0-1 per la squadra di Mister De Eugenio. Dopo una serie di lanci lunghi non concretizzati da entrambe le squadre, la prima occasione arriva al minuto 11 con Gyeye che dopo un'azione di Nepo dalla destra la sua conclusione finisce sopra la traversa. 6 minuti dopo l'Angolana è vicina al vantaggio, dopo una mischia in aria Bizzarri tenta una conclusione che Bruno scalda le mani e riesce a bloccare il risultato sullo 0-0. Alla mezz'ora Bruno è autore di un'altra bellissima parata, Gyeye innesca Pompei solo in area di rigore, prova di incrociare ma l'estremo difensore di casa ha i riflessi prontissimi. Reagisce la Torrese qualche minuto dopo con un 1-2 pericoloso Maio Torbidone ma la conclusione del numero 9 è alta sopra la traversa. Nella ripresa la partita si accende già dai primi minuti, visto che all'inizio la Torrese parte fortissima con Puglia che tenta un tiro dalla distanza ma la sua conclusione non c'entra lo specchio della porta. Ci riproverà il numero 8 Tini, due minuti dopo in seguito da una bella azione la sua conclusione però non c'entra lo specchio della porta. Si fa vedere anche l'Angolana nell'altra metà campo ma il suo bomber Gyeye non trova il gol dell'1-0. 1-0 che arriva al dodicesimo minuto del secondo tempo. Nepa crea una traiettoria imparabile per Bruno e il squadra di mister De Eugenio passa in vantaggio. L'Angolana continua ad attaccare, nel suo terzino Malocu tenta una conclusione che viene deviata ma nonostante ciò la palla si stampa direttamente sulla traversa. 0-1 il risultato finale allo stadio comunale di Castelnuovo. Una sconfitta che pesa tanto la Torrese ma è molto preziosa invece la vittoria, quella per l'Angolana. Allora il mister è una sconfitta che purtroppo pesa tanto visto che comunque il Chieti ha pareggiato anche in casa. Quanto rammarico c'è? Beh diciamo che il rammarico è grande perché noi oggi non abbiamo giocato e questo per me è il rammarico più grande perché venivamo da una sconfitta che insomma bruciava, quella di Capistrello e alla squadra avevo chiesto una partita fatta di carattere, di voglia, di cattiveria e noi oggi non abbiamo messo niente di tutto questo. L'Angolana ha dominato la partita dall'inizio alla fine, ha meritato di vincere questa partita. Noi riusciamo molto rimaneggiati dal punto di vista mentale e quindi niente, nel caso in cui dovessimo andare ad affrontare i playoff dobbiamo assolutamente cambiare mentalità. Sono molto preoccupato e niente, da martedì c'è tanto lavoro da fare e ci prepariamo. Mister, tre punti che valgono oro colato visto la zona in classifica. Era questo quello che vi eravate programmati già dall'inizio della settimana? Sì, vincere qua era importante, nessuno aveva vinto nel campo della Torrese, quindi è un'impresa importante che dei ragazzi ma soprattutto meritata perché secondo me abbiamo creato dieci palle gol, anzi forse il cruccio è che abbiamo concretizzato tutta la mole di gioco che abbiamo fatto e abbiamo tenuto viva la partita fino alla fine. Dovevamo chiuderla prima, non l'abbiamo fatto però è il pello nell'uovo di una bellissima partita.